Ciao ragazzi, nella lezione di oggi parliamo di coniugazione e riconoscimento del modo e del tempo verbale. Un argomento ostico per molti studenti, ma importantissimo per esprimersi senza orrori grammaticali. È un argomento importante ancor più se studiate le lingue straniere. Per cui cercherò in questa lezione di spiegarvi come non sbagliare. Ora, premesso che non ci sono segreti e bisogna studiare, è però possibile, tenendo conto del sistema di formazione dei tempi verbali, risalire più facilmente al modo e al tempo di un verbo. In questa lezione ci occuperemo dei modi finiti e, come vedete da questa slide, cominciamo ad occuparci in particolare del modo indicativo, perché i tempi del modo indicativo sono quelli che usiamo di più, sia nello scritto che nel parlato, e poi l'indicativo è il modo che ha più tempi. Infatti ha una forma per il presente, ben cinque forme diverse di passato, l'imperfetto, il passato remoto, il passato prossimo, il trapassato prossimo, il trapassato remoto, e ben due forme anche per esprimere le azioni future, futuro semplice e futuro anteriore. A proposito sempre di modo indicativo, questa tabella che divide i tempi in semplici e in composti è molto importante per imparare a riconoscere i diversi tempi dell'indicativo, perché, come vedete, abbina presente a passato prossimo, imperfetto a trapassato prossimo, passato remoto a trapassato remoto, futuro semplice a futuro anteriore, e questo abbinamento non è casuale, perché le forme composte che trovate nella colonna di destra corrispondono ai tempi composti dei corrispondenti semplici della colonna di sinistra, quindi questo equivale a dire che il passato prossimo è il tempo composto del presente, il trapassato prossimo dell'imperfetto e via dicendo. Ora, avendo presente questa tabella e ricordando questi abbinamenti, vedrete che diventa più facile riconoscere almeno le forme composte del modo indicativo. Continuando sul modo indicativo, andiamo a vedere in cosa consiste questa associazione, perché è presente e associato a passato prossimo, e lo vediamo prendendo in considerazione i due verbi servili, essere e avere. Due verbi molto importanti, perché, come abbiamo visto, ci servono per formare i tempi composti, oltre che, nel caso del verbo essere, anche le forme del passivo. Ora, se osserviamo il presente del verbo essere, che già conoscete, e poi andiamo a vedere la coniugazione del passato prossimo, di cosa ci accorgiamo? Che il passato prossimo è formato dal presente più il participio passato. E così, guardiamo l'imperfetto, questa è la coniugazione dell'imperfetto, il suo corrispondente tempo composto, cioè il trapassato prossimo, è formato dal verbo essere all'imperfetto con l'aggiunta del participio passato, e così via dicendo anche per le altre forme. Passato remoto, accompagnato dal participio passato, diventa trapassato remoto, il futuro semplice, seguito da stato, diventa futuro anteriore. La stessa cosa la potete constatare osservando il verbo avere. presente, presente più avuto, passato prossimo. Imperfetto indicativo, più avuto, participio passato, diventa un trapassato prossimo. E così anche per le altre forme. Passato remoto, e poi trapassato remoto più participio passato dal trapassato remoto, il futuro semplice, lo ritroviamo nel futuro anteriore, seguito dal participio passato avuto. Lo stesso meccanismo lo ritroviamo anche negli altri modi finiti. Qui avete la tabella relativa al congiuntivo sempre del verbo essere e del verbo avere. Allora, qui abbiamo raccolti i tempi semplici, qui i tempi composti, e anche qui cosa vediamo? Che il congiuntivo presente, che io sia, che tu sia, che gli sia, eccetera, lo ritroviamo nel congiuntivo passato, seguito da stato. Nel trapassato troviamo il congiuntivo imperfetto, seguito da stato. Osservate anche che il congiuntivo, a differenza dell'indicativo, ha soltanto quattro tempi, quindi diventa anche più facile da imparare. In sostanza, quindi, una volta imparato il presente, una volta imparato l'imperfetto, con l'aggiunta di stato, automaticamente ho imparato anche i tempi composti. La stessa cosa la ritrovate per il verbo avere. Presente, congiuntivo, con l'aggiunta di avuto diventa passato. Questo è l'imperfetto congiuntivo, con l'aggiunta di avuto diventa trapassato. Il condizionale ha soltanto due tempi, presente e passato, uno semplice e uno composto, sia per il verbo avere, ovviamente, sia per il verbo essere. E anche qui, se al condizionale presente aggiungo stato, ottengo la forma passata. Andiamo a vedere adesso cosa succede con un verbo, invece, in questo caso abitare, della prima coniugazione regolare. Imparo i tempi semplici, quindi il presente, l'imperfetto, il passato remoto, il futuro semplice. Per facilitare la coniugazione posso anche imparare le desinenze. In questo caso avete soltanto quelle che riguardano i verbi con l'uscita in aree della prima coniugazione, ma rimangono fisse anche per quelli in ere e dire. E quindi, una volta imparata le desinenze aggiunta alla radice, ottengo così la coniugazione del verbo. Se andiamo a vedere il tempo composto, vedete che il meccanismo di formazione è lo stesso. Nel caso di abitare, che vuole l'ausiliare avere, come formo il passato prossimo? Prendendo il presente del verbo avere e l'aggiunta del participio passato, in questo caso abitato. Per formare il trapassato prossimo, prendo l'imperfetto del verbo avere con l'aggiunta di abitato. Per formare il trapassato remoto, prendo il passato remoto sempre dell'ausiliare avere più abitato. Per formare il futuro anteriore, prendo il futuro semplice di avere con l'aggiunta sempre di abitato. Quindi, come riconoscere il tempo verbale? Guardiamo questa tabella, ad esempio, che ci guida. È riferita sempre ad un verbo del modo indicativo. Se trovo il verbo mangio, osservo che è formato da un verbo solo, da una sola forma, quindi mi trovo di fronte ad un tempo semplice. Allora vado a cercare nella tabella dei tempi semplici, questa che abbiamo già visto prima. Ma se l'ho già imparata, memorizzata, non c'è bisogno che vada a consultarla di nuovo. Cerco di capire l'azione che esprime questo verbo mangio quando accade, quindi mi posso domandare quando. La risposta è ora, adesso, quindi si tratta di un presente. Ma avrebbe potuto essere anche un imperfetto, che si riferisce quindi ad un'azione passata. Un'azione ancora più lontana nel tempo, vedete questa freccia molto lunga, se è un passato remoto. Se invece è un'azione che accadrà nel futuro, si tratta di un futuro semplice, quindi riconosco che è un presente. Se invece devo analizzare una forma composta, come per esempio ho mangiato, formata da due verbi, cosa faccio? Devo andare a guardare il primo verbo che trovo, cioè l'ausiliare. Identifico il tempo dell'ausiliare, l'ausiliare sarà o essere o avere. O appartiene alla tabella dei tempi semplici, è un presente. Se ho memorizzato questa tabella e so che il corrispondente tempo composto del presente è il passato prossimo, risalgo facilmente al tempo appunto di ho mangiato, che è infatti un passato prossimo. Ora prova tu. Io qui ho indicato delle forme verbali, seguendo anche la strategia che ho suggerito, prova a scrivere di fianco il modo e il tempo e poi in classe correggeremo l'esercizio.